...diologico linguale dal quale potrebbero essere partiti i contagi, pure invenzioni, ribadisce oggi la direttrice della scrittura che comunque stiamo lavorando su tre diversi ceppi di coronavirus provenienti da pipistrelli, ma nessuno di questi sarebbe il virus responsabile del covid-19, il primo campione clinico della polmonite sconosciuta, sarebbe stato invece consegnato all'istituto per analizzarlo solo il 30 dicembre scorso, come avrebbe potuto essere uscito dal nostro laboratorio quando non lo abbiamo mai avuto, è la linea difensiva, ma comunque, avviene il covid-19, il virus sarebbe stato dunque già isolato agli attacchi americani, il ministero delle azioni cinese ha reagito con forza, stanno diffondendo un virus politico fatto di bugie per screditarci, l'America però non può fermare lo sviluppo cinese, oggi il presidente Xi Jinping ha annunciato che per il 2020 se non ci fosse stata l'epidemia la crescita economica della Repubblica Popolare avrebbe toccato il 6% e la nuova potenziale guerra fredda sta già avvicinando ulteriormente il blocco orientale, Cina e Russia si sono difese eventualmente contro attacchi e calugne irragionevoli, ha detto il ministro degli Grazie.